Allora buonasera a tutti e a tutti. Eccoci. Allora grazie di essere qua in questa sala, grazie di essere anche nell'altra sala perché abbiamo saputo che c'è un'altra sala collegata perché non c'era abbastanza posto in questa. Beh ovviamente rifacciamo subito un grande applauso a Matteo Saudino, siamo qua per lui. Siamo qua per Matteo e per ribellarsi con Filosofia che è l'ultimo libro, il nuovo libro uscito da Vallardi che quindi speriamo tutti quanti abbiate già comprato o dopo potrete comprarlo là fuori, dopo ci sarà anche spazio per il firmacopie ovviamente e quindi insomma le cose importanti di servizio le abbiamo dette e ora possiamo cominciare. Allora Matteo, vabbè, anzitutto bello essere di nuovo insieme a chiacchierare dei libri tuoi soprattutto. Abbiamo chiacchierato di scuola a Ivrea lo scorso anno e Ivrea è appena diventata capitale italiana del libro 2022. Tra l'altro lo sapevate, bisogna fare anche come dire dedicare un pensiero a Ivrea ed è una bellissima notizia, poi la grande invasione, non so se ci siete mai stati, ma è un festival delizioso quindi è a cavallo tra maggio e giugno se vi capita cercatelo insomma e passate, perché spesso Matteo e tu fai un sacco di cose. Quest'anno ci sarò per ben tre laboratori di filosofia. Tre laboratori, cosa fai? Sì sì, quest'anno abbiamo ancora deciso, lo scorso anno era la distopia e l'utopia, quest'anno qualcosa ha riferito alla filosofia della natura dovrebbe essere, però è in cantiere. Dunque tre laboratori, il bello della grande invasione è proprio questa dimensione al di là delle conferenze più diciamo canoniche, ma il bello è la dimensione appunto laboratoriale, cioè parlare, dialogare, fermarsi dopo anche la lezione, a discutere, a confrontarsi. Sì, è uno dei festival secondo me più belli in Italia per la dimensione anche proprio dell'incontro e del luogo, insieme forse al festival letteratura di Mantova che come dire facilita molto quella dimensione lì e per chi c'è mai stato il festival di Gavoi in Sardegna che era un festival che purtroppo, vabbè, adesso è fermo da un paio d'anni ma speriamo riprenda anche quello. Non sto parlando di festival. La penultima volta, cioè non lo scorso anno ma nel 2020, alla grande invasione ho fatto una lezione su Democrito in una chiesa e penso che fare Democrito in una chiesa sia un qualcosa più unico che raro. Scorsacrata. Ma io pensavo, poi mi hanno detto forse di no, comunque è ancora in piedi e non è caduta la chiesa, pertanto ha retto l'impatto di Democrito. Comunque stiamo parlando di festival culturali e di divulgazione, non a caso, non solo perché siamo amanti dei festival e spesso li frequentiamo e ci incontriamo lì, tra di noi e con voi ovviamente, ma perché il lavoro che sta facendo Matteo Saudino in questi anni va esattamente in quella direzione, cioè è un lavoro di diffusione, di divulgazione preziosissimo. Perché? 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 Fra l'altro, guarda, io comincerei da questa cosa qua. Prima di entrare nel libro mi piacerebbe stimolarti una riflessione su questo, nel senso che ultimamente molti filosofi, penso ad esempio a Maura Gancitano e Andrea Collamedici, con Tlon, altri, stanno, come dire, usando la filosofia, la filosofia classica per scardinare il presente e questo è molto interessante. Per cui, ma mi chiedo però, come dire, che cosa tu ne pensi davvero di questo approccio pop, pret-à-porter, non so, alla filosofia? Cioè, no, perché, come dire, si rischia anche poi magari di ridurla eccessivamente? No, non lo so, ecco, cosa... Inizio subito con una domanda difficilissima. No, nel senso che, come tu ben saprai, ci sono forti polemiche anche su quest'uso della filosofia, come ve ne sono sull'uso della storia. Lo stesso Barbero è stato, no, anche accusato a volte di essere un po' il prezzemolo che si occupa di tutti gli eventi storici, di essere presente, a volte semplificandoli. Parliamo dunque dei massimi, se non forse il miglior divulgatore e narratore di storia. È accaduto al papà e il figlio Angela, no? A Piero e Alberto Angela. Ma questa giornata a Roma non è proprio, no, spiegata così. Sì, sì, va bene, funziona, ma non è che forse è una divulgazione eccessiva. Dunque il tema della divulgazione oggi è veramente spinoso, perché divulgare un mestiere difficilissimo, più difficile del mestiere accademico, perché l'accademico è chiaramente un percorso durissimo, fatto di anni e anni di ricerca, però ti muovi all'interno di un canone che è abbastanza delineato, ben preciso, no? I libri con 4-5 righe sopra e 75 di note sotto. Ok, quello è un bel lavoro di ricerca e io non letti tanto perché per divulgare devi anche leggere quei testi. Però cosa devi poi fare? Devi capirli e riproporli in modo accessibile al grande pubblico, riproporli per i non esperti. Il rischio di banalizzare è sempre alle porte, il rischio di una semplificazione scorretta è sempre alle porte, dunque ti muovi sempre sul filo del rasoio. Però io penso che sia fondamentale divulgare oggi. Divulgazione scientifica innanzitutto ce n'è bisogno, ce n'è ancora troppo poca e la crisi innescata dal Covid ha dimostrato quanto vi sia bisogno di un'ottima divulgazione scientifica, perché a volte si sentono delle cose effettivamente che non stanno né in cielo né in terra, cioè di ignoranza scientifica di base. Ma poi viene bisogno in ambito storico, ovviamente filosofico, perché? Perché l'uso pubblico delle discipline accademiche aumenta il livello di consapevolezza della cittadinanza e poiché la democrazia si fonda sulla cittadinanza consapevole, che non è solo una parola da usare per farsi belli, perché è così. Dove non c'è consapevolezza, dove non c'è cittadinanza critica e responsabile, le democrazie appassiscono, sfioriscono e l'uso pubblico della storia, della filosofia, delle scienze aumenta il senso critico e di responsabile dei cittadini. Dunque i divulgatori debbono assolutamente essere invogliati a farlo, però senza diventare sebanesi, c'è il rischio di specchiarsi in se stessi, diventare eccessivamente pop, c'è. Se mi accade, Fabio, tu me lo dici, mi tiri, ok? Per la giacchetta, c'è, Matteo, dove stai andando questo? Questo è troppo. No, per adesso, beh, qui dentro ci sono degli adesivi che si fa... A proposito, se volete, qua ci sono degli adesivi, degli stickers da attaccare, quindi come dire, volevo farti notare, Matteo, che hai messo degli adesivi nel tuo libro. E fare degli adesivi di pazia è troppo, è troppo. No, però invece, guarda, io sono un fan del tentativo di portare argomenti e concetti alti e complessi a chi magari fa altro nella vita. Ho sempre sofferto molto un certo protezionismo del sapere che è tipico degli intellettuali, soprattutto italiani, a me sembra, perché nel mondo anglosassone c'è molto di meno. C'è sempre stata la voglia invece di semplificare dove semplificare non vuol dire essere superficiali, ma vuol dire proprio riuscire a ridurre una questione complessa in modo che le basi di quella materia possa arrivare anche a chi fa una vita che nulla a che fare con quella materia e non ha il tempo di leggersi, come dire, Platone in originale e poi ridurlo lui stesso per impadronirsene. Per cui c'è questo meccanismo di filtro che invece io trovo molto prezioso. L'Italia è stata sempre, diciamo, la parte di quella intelligenza che si è chiusa un po' in se stessa. Se andiamo anche all'origine della letteratura, dei romanzi, quasi tu l'esperto, pensa che Fatica ha fatto il romanzo per assumere la vera dignità del fumetto, non parliamo neanche che per essere sdoganato, beh, è servito probabilmente Umberto Eco quando a un certo punto al Dars di Bologna ha cominciato ad inserire le grandi graphic novel o anche semplicemente Topolino e che livello ha Topolino. Oresta del Buono prima, Oresta del Buono, poi Umberto Eco, che hanno sdoganato una letteratura assolutamente di livello per le storie che raccontava senza, inoltre, c'è addirittura nelle capacità chiaramente tecniche e artistiche che sono incredibili. Però noi siamo in parte l'Italia, e lui con grande rispetto, chiaramente di Leopardi, di Carducci, di D'Annunzio, prolungo, dei grandi poeti, e quell'Italia lì il romanzo lo ha chiuso di fatto. Twain, il romanzo Ovidi, quanto hanno faticato a diventare delle colonne portanti della cultura anche nel nostro paese. La filosofia in modo particolare è sempre stata la disciplina quasi più elevata per eccellenza. Non dimentichiamoci mai che la storia della filosofia che gli studenti hanno fatto e che continuano in gran parte a fare deriva da un impianto di Giovanni Gentile che, con Benedetto Croce, è il principale idealista italiano. Idealismo vuol dire andare ad Hegel. Per Hegel, nella sua struttura delle scienze, lo spirito, la ragione, torna pienamente a sé nelle ultime tappe con l'arte, dunque grande importanza dell'arte. Benedetto Croce è uno dei massimi storici dell'arte. La religione, per questo viene anche inserita l'insegnamento della religione cattolica nella scuola, perché nell'ottica di Gentile eleva lo spirito, ma la disciplina più alta, più elevata, la somma disciplina che ti porta alla concettualizzazione della realtà e la filosofia. Pertanto viene messa, innanzitutto, nel liceo che consideravano il migliore, il gentile, cioè il liceo classico, e poi progressivamente l'hanno estesa agli altri licei. Ma la loro idea era la disciplina filosofica che è il culmine di un percorso di crescita dello spirito umano. Capite che in questo contesto la disciplina non è per tutti. La disciplina è una disciplina per pochi. L'ora già per Platone, già per Aristotele, poi qualcosa è cambiato, ed è cambiato chiaramente con la scuola di massa, con le riforme scolastiche, con la televisione, con la letteratura più popolare, con il cinema, perché il cinema ha dentro di sé molti concetti anche filosofici, e noi oggi ci troviamo di fronte ad un mondo talmente anche complesso e interconnesso, per cui servono anche delle basi filosofiche per comprendere le cose che abbiamo davanti. Perché alcuni autori, alcuni scrittori, alcuni registi usano la filosofia senza magari esplicarla in maniera appunto netta, ma magari senza neanche conoscerlo, saperla, ma fa parte ormai del nostro background culturale. Il velo di Maya, non so, di Schopenhauer, la psicanalisi freudiana, il superuomo di Nietzsche, l'alienazione di Marx, va bene, Aldo Giovanni Giacomo con le due mele che si uniscono, quel mito dell'androgeno di Aristofane, fanno parte della nostra cultura senza che ci sia una nota a piepagine. Guarda, stiamo citando il simposio per la precisione e l'intervento di Aristofane e che parla dopo. No, dunque conoscere un po' di grandi questioni filosofiche ci rende, e poi questo è un grande obiettivo che mi provo a dare con i miei libri, più liberi. Perché quando tu conosci una cosa, inevitabilmente sei più libero, perché non la subisci, ma la domini o comunque la maneggi con consapevolezza. E' questo il discorso. Tu hai citato la scuola, il liceo, il tuo libro si intitola Ribellarsi con filosofia. Stamattina gli studenti ci sono di nuovo scontrati con la polizia, hanno cercato di gruppi di studenti, perché poi è sempre fastidiosissima questa generalizzazione, per cui gli studenti cercano di entrare nella sede di Confindustria, poi leggi bene e leggi 20 ragazzi incappucciati hanno cercato di... Allora dici, vabbè, ma 20 ragazzi incappucciati non sono gli studenti, è un'altra cosa. Quindi detto questo, però riusciamo a cucire tutto questo. C'è stata autogestione, c'è occupazione in questi giorni. Che cosa è successo nel tuo liceo? Tu sei riuscito a, come dire, a portare la filosofia in quel contesto? Guarda, io ho avuto la fortuna anche di essere invitato praticamente da tutti i licei torinesi. Io sono andato ospite in tre o quattro per motivi di tempo, il mio, chiaramente il Gioberti, sono andato al Cavour, al D'Azzeglio e poi al Volta, mi sembra, all'Einstein, online, perché per motivi di tempo e poi ancora per motivi di Covid. E parto da qui. Ragazzi che hanno gestito occupazioni, autogestioni rispettando la sicurezza. A me sembra un passaggio, anche lì non tutti, ci sono delle eccezioni, ci sono degli studenti che hanno fatto magari degli errori, però l'impianto complessivo era quello del rispetto, del rispetto. E ho fatto un intervento ieri al Cavour, erano tutti lì seduti che ascoltavano, e poi ho fatto un intervento sul senso della filosofia oggi e dopo di me c'erano degli altri relatori. E quello che è emerso in queste settimane, diciamo anche un po' di fermento, che magari vanno avanti, perché sarebbe anche interessante che Bianchi intervenisse ed è su un segnale un po' forte di dialogo. Quello che è emerso in queste settimane è che questi ragazzi, queste ragazze, hanno voglia di dire ci sono, ci siamo anche noi, via le mascherine, al di là dello schermo, vogliamo dire delle cose, abbiamo sofferto, e so che questa parola ad alcuni dà fastidio, perché soffrire l'Afghanistan, soffrire, naufragare nel Mediterraneo, sicuramente se vogliamo fare un gradiente viene dopo, ma non si possono fare i gradienti della sofferenza, perché i ragazzi non sono in un barcone nel Mediterraneo, non sono in Afghanistan, non sono in Siria. Per i ragazzi e le ragazze della nostra età è stato un periodo veramente difficile. Anche perché i centri di neuropsichiatria dell'età evolutiva ci raccontano quanto invece l'emergenza c'è stata. L'emergenza c'è, tutti i dati lo confermano, e in queste occupazioni, in queste manifestazioni, la parola è dialogo, partecipazione, vogliamo. Poi ci sarà quello che non vuoi, scusate, ma va bene, poi dici tu, non generalizziamo. Ce la voglia anche di un'altra scuola, un po' meno lezioni frontali, un po' più di laboratorialità, fare dei progetti, loro vorrebbero fare dei progetti in cui mettono dell'oro. Io sono andato un po' a spulciare la scuola anche in giro per il mondo, non c'è il Bengodi, non c'è il luogo, non c'è l'Eldorado, le scuole hanno tutti dei difetti, quella italiana per molti aspetti ne ha meno di altri, però ho scoperto che ad esempio in Olanda, negli ultimi anni dell'high school, del liceo nostro, c'è la possibilità per i ragazzi di avere un monte ore, mi sembra 30 o 40, che nell'anno si gestiscono loro, costruendo un progetto e vanno addirittura a cercare i tutor. Questo progetto innesca una voglia di fare dei momenti di motivazione che effettivamente noi a scuola non abbiamo. Nella scuola italiana, che ripeto è di alto livello in tantissimi settori, la primaria è ancora di alto livello, io parlo di quello che conosco, le scuole liceali sono di alto livello, però manca questo protagonismo, loro sono stufi probabilmente di subire soltanto, cioè la passività, vogliono poter dire. Il successo, zero calcare, geniale, la sua graphic novel che poi diventa serie tv, è quella cosa lì, il loro posto nel mondo. Fossero delle figurine, strappare lunghi i bordi, ti mettiamo qui. Il problema è che loro non sanno dove devono essere messi. Mi verrebbe da dire, bene, così tocca a loro trovarsi il loro posto nel mondo. E trovarsi il loro posto nel mondo è difficilissimo, però se avremmo anche degli adulti meno paternalistici, e questo non si fa, e questo è così, e cosà, lasciamogli anche fare delle esperienze, così crescono. Perché se loro non hanno l'esperienza dell'errore, dello sbaglio e della polemica, la polemica fa crescere. Poi vuol dire la dialettica tra insegnante e... Si fa dibattito però adesso nelle scuole, so che è tornato. C'è anche un torneo, credo. Noi Gioberti abbiamo il torneo del debate, ed è molto bello. Abbiamo dei ragazzi, tra l'altro, anche bravissimi. Secondo me, e quando faccio delle critiche, di fare le costruttive, sarebbe importante andare un po' oltre il debate, cioè tenerlo, ma il debate ha già un problema a monte. È aperto a tutti. Ma chi si iscrive? Mi hai capito. Noi arriviamo proprio da un percorso anche giovanile, insieme sui marginali. e già in un liceo classico scientifico di marginali ne trovi già molti di meno delle altre scuole. Però quelli che sono un po' più in difficoltà non si iscrivono neanche al torneo del debate. Allora sarebbe importante costruire, durante l'anno, non lo puoi fare in tutte le ore, ma dei momenti di confronto, fuori la prestazione. c'è chi vince e chi perde, ma dibattiamo. Non alla fine ha vinto lui perché in tre minuti ti ha messo con le spalle al muro come argomentazione, che è divertente, è bello vederlo fare. Io a volte che i miei lievi le faccio, vediamo un po'. Certo. Però se fai solo quella modalità lì, chi è un po' più debole, niente, non ce la fa, perché sa già, no, mi mette contro X, è imbattibile, non ce la posso fare. Cioè noi dobbiamo uscire un po' dalla prestazione, dalla scuola della performance, e costruire una scuola un po' più solidale e collaborativa. Secondo me è fattibile. Secondo me è fattibile se il corpo insegnanti comincia magari anche ad allearsi con gli studenti per richiedere una... Certo. No, per ribellarsi. Come dire, sarebbe bellissimo che studenti e corpo insegnanti si ribellassero insieme e dirigenti anche, perché poi i dirigenti oggi, come dire, cioè fare il dirigente scolastico è un mestiere pazzesco. È molto complesso. È una pazzesca. Sia per la responsabilità, ma sia per quello che il mondo esterno chiede alla scuola. Perché a un certo punto la scuola non si chiede solo più di insegnare. Ah, tra l'altro, Fabio, che io un po' nel libro anche di dimensione politica, chiaramente tanto, poi anche ecologica ne parlo, e anche dimensione poi della indipendenza, autonomia sessuale. Ecco, se c'è una cosa che ormai è diventata una richiesta ricorrente è sessualità e affettività, che mi permetto di dire, non vuol dire allora attenzione, per prevenire queste malattie usate il preservativo, non chiedono quello, chiedono una educazione, o comunque un momento di discussione con degli esperti che non possono essere, chiaramente, gli studenti italiani di matematica, adesso si mette lì e inventa qualcosa, ma con qualcuno che li porti dentro una dimensione di sessualità, di affettività, perché è diventata predominante, ma non ci vuole un genio capirlo, loro guardano tantissime serie tv, qual è l'elemento centrale delle serie tv? L'affettività e la sessualità, non sono altri, cioè quello che c'è in ogni serie tv... E oggi in modo particolare è la fluidità all'interno dell'affettività e all'interno della sessualità. Certo, e allora loro escono da scuola, si nutrono di quelle cose lì, vanno a scuola e quelle cose lì non le vedono mai. In realtà poi la letteratura latina, quella greca, la filosofia, cioè con il simposio dei miei allievi... E infatti la Miller ha sfondato, no? Quella canzone di Achille, voglio dire... Colpo di scena, colpo di scena, Sì, ma sono primi in classifiche da due anni, a dimostrazione che i classici sono tali perché parlano costantemente del presente, eccetera, eccetera. Senti, allora, dunque, ribellarsi con filosofia comincia con le sette meraviglie della filosofia, le leggo rapidamente, poi come dire, lui ovviamente c'entra dentro, no? Con, insomma, in maniera chirurgica, quindi dovrete leggere il libro per sapere esattamente quello che dice, però magari su ogni cosa se ti viene in mente, no? Un commento. La prima meraviglia è la filosofia serve a comprendere la complessità. Sì, perché il libro che racconta dei pensatori ribelli ha come introduzione la grande questione che accompagna la filosofia. A cosa serve? E già Aristotele ci ha detto nella metafisica che non serve a nulla e la bellezza sta nell'inutilità perché se non serve a nulla vuol dire che non sei servo di nulla e dunque sei libero mentre le discipline che servono qualcosa dipendono dalla cosa che servono. Dunque è una disciplina in parte anarchica nel senso che può andare un po' ovunque. Questa anarchia della filosofia ci porta però poi a delle bellezze a delle inutilità la prima è proprio questa il mondo è complesso e lo vediamo ogni giorno Biden Putin l'Ucraina l'eutanasia la cannabis i migranti possiamo andare avanti come posso comprendere un mondo complesso se sono abituato a ragionare intorno alla complessità a ragionare in modo complesso rendendo il complesso poi più semplice infatti ho detto ho usato due autori agli antipodi per argomentare questa prima meraviglia Cartesio col suo metodo prendere un prima complesso scomporre nelle singole parti risolverle e poi ricomporlo quando lo ricompongo non è più complesso perché l'ho semplificato nelle singole parti e poi ho usato il mio autore sempre di riferimento Nietzsche dei bei candelotti di dinamite sotto la complessità la fai saltare e poi vai in giro tra le macerie guardi e ricomponi noi non possiamo prendere la complessità così e semplificarla in maniera banale quella è la banalizzazione allora poi ti arriva il pifferaio magico che suona tu non avendo capito la complessità ti metti dietro e lo segui lo segui perché non hai i mezzi per comprendere la complessità questo è direi il primo grande seconda meraviglia la filosofia serve a creare problemi assolutamente no la filosofia non risolve nessun problema la filosofia crea dubbi e problemi è sempre stato così e sempre sarà mi verrebbe da dire se cercate risposte rivolgersi ad altre discipline la filosofia crea dubbi problemi e è l'essenza della filosofia il dubbio e dunque diventa una disciplina feconda perché il dubbio chiaramente è l'elemento da cui si parte poi per andare alla ricerca di risposte ma ogni risposta rimanderà ad un altro dubbio un'altra domanda e noi abbiamo bisogno anche a scuola di avere dei dubbi non solo insegnare 7 più 5 è 12 ok perfetto lo abbiamo capito citazione già da Kant questa però non ci basta 7 più 5 è 12 andiamo a capire dove ci sono delle crepe e lì vedremo che cresciamo e qua dici anche una cosa che mi è molto piaciuta quando parli un po' della necessità di andare incontro al pericolo per conoscere se stessi dici senza perdersi nei boschi senza incontrare i mostri che abitano dentro e fuori di noi Capucetto Rosso Policino Hansel e Gretel sarebbero mai diventati adulti questo è effettivamente come dire un'idea da proporre a tanti genitori soprattutto io credo che oggi faticano a a immaginare i propri figli correre dei rischi allora si capisce ancora di più la mia risposta sul tema degli studenti prima devi uscire a un certo punto dalla campana di vetro dalla bolla nel gioco delle parti ci sta che il genitore voglia la bolla voglia la campana di vetro poi fuori c'è il lupo fuori c'è la strega c'è la casa con lo zucchero con i dolci e tu sì certamente mettendo in guarda devi far sì che quel passaggio avvenga altrimenti non c'è la crescita quando sei passato per quell'incontro sei cambiato ma sei cambiato chiaramente sei cresciuto dunque è dialettica la filosofia nella sua dinamicità la filosofia è dialettica e la terza meraviglia si innesta perfettamente in questo discorso ancora legato alla crescita all'adolescenza ma forse in realtà tutta quanta la nostra vita cioè la filosofia serve a fondare le scelte sì la filosofia sorge sul principio di non contraddizione che accomuna poi la filosofia alla matematica alla fisica un principio logico al contempo A è uguale a B A è diverso da B nel tempo T non può essere allora noi quando argomentiamo dobbiamo cercare già di non cadere in contraddizione e la filosofia ti insegna ad argomentare in maniera coerente poi la coerenza è anche ingombrante non è la vita ad esempio in amore è difficile perché le emozioni e i sentimenti scompigliano le carte in politica la coerenza è difficile sono pochi i politici coerenti perché la politica è un luogo dove c'è anche l'accordo quello sotto banco dove c'è il disaccordo dunque la coerenza argomentativa non appartiene molto al nostro mondo anche un po' ultra veloce noi siamo un mondo di affermazioni di like di cuoricini non di argomentazioni è facile pollice su pollice giù adesso è stato anche tolto per il tema del non creare disagio dolore perché le ragazze o i ragazzi che avevano tanti dislike hanno avuto dei grandi problemi soprattutto in America hanno cominciato a togliere questa possibilità di vedere i non mi piace però mi piace non mi piace non è un'argomentazione è un afflato immediato noi dobbiamo tornare ad argomentare perché perché e la filosofia è lì la filosofia è affermare dicendo perché a Platone si mette lì l'anima immortale perché perché l'anima dà la vita e ciò che dà la vita potrebbe contenere il principio della morte no possiamo ridiscutere ma lui non ha detto soltanto l'anima immortale vado al bar adesso perché ciò che è principio di vita non può contenere il principio di morte ed ecco un'argomentazione e così la filosofia procede la coerenza che però non è ortodossia bisogna ricordarlo nel senso che poi l'arte del compromesso invece fa anche parte della filosofia sì e poi fa parte solo delle vite dei filosofi perché poi un conto è la dottrina poi un conto sono le loro vite nell'altro libro la Fissione della Barba raccontavo come Platone fosse talmente iroso nei confronti di Democrito che voleva bruciare tutte le opere e alcuni filosofi non citano gli altri perché o non li sopportano o perché non vogliono che un domani si ricordi i rosiconi di cui parlavamo prima esistevano già i rosiconi anti-AC sempre esistiti i rosiconi AC senti e tra l'altro scusami no no la quarta meraviglia la quarta meraviglia è la filosofia serve a immaginare altre realtà eh sì 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 la filosofia ha come anche caratteristica non tutti i filosofi ma molti immaginare realtà che non esistono gli utopisti ne sono un esempio ma non sono gli utopisti cioè a un certo punto la filosofia ti porta anche a dare delle risposte o cercare delle risposte che non sono immediatamente visibili già Socrate ci dice ma forse la verità va cercata sotto terra o in cielo cioè bisogna andare un po' oltre quello che è l'apparenza e per far questo devi immaginare dunque sviluppi anche profondamente l'immaginazione nell'utopia Thomas More ci ricorda una cosa che oggi attuale nell'introduzione si discute della criminalità in Inghilterra e del fatto che la pena di morte non diminuisse la criminalità e lui fa dire eh ma la prima il primo modo per diminuire la criminalità è eliminare la povertà capito questo anno del signore siamo nel 1517 capisci e dici oh guarda guarda non basta soltanto impiccare il problema è che c'è la povertà ad esempio per cui non si fa la guerra ai poveri ma si fa la guerra alla povertà che è una cosa diversa tra l'altro in questo in questa introduzione me ne sono accorto oggi riguardandolo citi Fabrizio De Andrè che oggi compierebbe 82 anni volevo ricordare questa cosa 80 60 no è del 40 quindi 82 82 anni giusto 82 anni perché è nato il 18 febbraio del 40 e tu lo citi dicendo sognai talmente forte che mi usci il sangue dal naso è la città di Fiume San Crick una delle sue canzioni più belle dal mio punto di vista trovare questo libro di Andrè è chiaramente molto difficile però è un'immagine molto forte questa e noi abbiamo bisogno di produrre anche con l'immaginazione una realtà di sognare ci sono ormai filosofi che stanno discutendo oggi sulla mancanza di utopismo è molto più semplice la questione di quanto possa sembrare ogni generazione o ogni due o tre generazioni a un certo punto si sviluppano forme di letteratura o di filosofia o di arte che hanno la dimensione dell'utopia cioè di immaginare qualcosa che non c'è se questo viene meno non è il problema di non immaginarlo è il problema che manca chi immagina questo Fabio è un problema grande è che la mancanza dell'utopia non ci dice tanto di quello che non ci sarà ma di quello che non c'è però ritornando ai ragazzi di cui parlavamo prima e che stanno molto a cuore ovviamente sia a te che a me effettivamente c'è questo problema cioè la nostra generazione ha avuto ancora una narrazione del futuro come una promessa assolutamente i ragazzi di oggi hanno una narrazione del futuro però come una minaccia è molto difficile per loro sognare o no? Assolutamente noi comunque abbiamo avuto sempre una prospettiva o almeno la speranza di una prospettiva di migliorare anche le condizioni di studio di economia dei nostri genitori o comunque in gran parte invece questi ragazzi no sperano al massimo di reiterare ma in molti casi dicono no io non avrò quello che hanno avuto i miei genitori e questa è una zavorra grande sulle spalle di una generazione perché ti viene meno quello slancio no e noi in questo senso non sappiamo aiutarli in questo momento non abbiamo le parole per dirgli no ma guarda che non è così ma guarda che se fai questo perché noi stessi non l'abbiamo abbiamo mancato le soluzioni in qualche modo o guarda che alla fine ho deciso di raccontare questi poi potrebbero anche essere di più anche per lasciare alle persone delle storie di pensatori che hanno pensato un po' fuori dal coro che hanno osato dire delle cose a prescindere dalla cosa ma che non erano maggioranza maggioranza cioè Epicuro che dolorante ha un tumore alla vescica sceglie di morire adesso l'ho scritto chiaramente nell'estate il libro è finito oggi torna di attualità con il tema dell'eutanasia io racconto di Epicuro che chiama una sua allieva forse anche un po' un amante sulla scuola del giardino è molto particolare no erano criticatissimi gli epicurei e gli dice di preparare che cosa la vasca migliore a disposizione perché lui ha deciso di farla finita cioè sceglie di morire come atto di estrema libertà oggi è una discussione presente nel nostro paese cioè e questo è ribelle cioè in questo Epicuro che tra l'altro non crede neanche come la tradizione orfico pitagorica e platonica all'immortalità dell'anima non è che solo crede che l'anima sia immortale allora si uccide come se fosse bere un bicchiere d'acqua però lui sceglie di liberarsi dal dolore non credendo neanche che l'anima sia immortale ma da buon materialista democriteo pensa che con la morte del corpo muoia anche l'anima pertanto è una scelta molto forte quella che compi e infatti la sesta meraviglia di cui parli è la filosofia prepara alla morte questo è un po' il filo rosso che invece è qualcosa che la nostra società allontana la vecchiaia il decadimento del corpo assolutamente adesso lo posso dire è presente qua anche in sala un ballare l'editore a cui proprio sono un grato perché ha creduto in questo progetto hanno fortemente avuto loro ma nel primo libro in cui parlo di morte comunque la morte proprio in copertina non ci può stare non sono tanti i libri che hanno da porre la morte in copertina non sono tanti i romanzi le serie tv perché la morte è ancora tabù poi io nel primo libro parlo solo di morte è chiaro perché ho raccontato come senza la morte non ci sia un senso alla vita e questo postile questo sesta meraviglia recupera un po' il precedente libro per dire attenzione la filosofia ti porta ad indagare la morte e indagare il limite la fine e quella è un'utilità perché tu indagando la fine sei obbligato settima a indagarla la filosofia interroga la vita interroga la vita cioè la consapevolezza della morte ti porta ad interrogare quello che c'è prima che è la vita ma tutto questo è un bagaglio che noi possiamo avere a disposizione ovviamente studiando i filosofi leggendoli la mia idea è poi sempre quella di fare dei filosofi dei compagni di viaggio cioè Ipazia ti dice qualcosa Ipazia cosa ti dice Ipazia Ipazia innanzitutto devi dire grazie a suo padre perché comunque se il buon Teone non avesse insistito Teone è un processo importante perché Ipazia è una bambina veramente geniale ma attorno con la genialità non le viene riconosciute il padre dice mia figlia potrà fare questo e le darà le chiavi del museo di scienze di Alessandra d'Egitto un altro padre avrebbe dato a un figlio masco sei brava dunque lei arriva a quel a ricoprire quel ruolo per un padre e il padre dice mia figlia sarà più brava infatti supera il padre per bravura ma non si ferma nonostante le minacce è un esempio di tenacia perché non è l'invito allora ad andare a morire però per ottenere una cosa serve tenacia Fabio e lei si è dimostrata tenace più di tanti altri perché ripeto Alessandra d'Egitto ormai era un luogo dove la violenza era l'ordine del giorno tra pagani e cristiani e lei ha cercato è composto nel mondo in uno scontro senza quasi più limite tra cristiani e pagani in realtà abbiamo saltato una meraviglia che è la filosofia serve a criticare il potere però insomma come dire ne avevamo già un po' un po' parlato non so se Fabio hai notato una cosa che quest'anno nella grande macchina di Sanremo io ne ho parlato un po' con i ragazzi perché sono passate due canzoni che dicevano delle cose durissime poi nella grande macchina vengono tritate uno non esistono poteri buoni cioè Trubbi mi sembra ha cantato la canzone di De Andrè quella canzone è durissima chissà se poi tranno le luci perché chiaramente la mega macchina è quella insieme a Caposseda è una canzone potentissima e poi ho cantato la canzone di Pierangelo Bertoli a Musodoro che è una canzone di una bellezza incredibile che in quel contesto cioè in quel testo in quella canzone dice ora si fanno le canzoni no? costruite a tavolino per piacere per vendere tutti abbiamo un prezzo e hanno cantato una canzone in un contesto dove effettivamente tutto viene un po' scritto da tavolino ecco cosa vuol dire criticare il potere i Bertoli o i De Andrè cantavano criticando il potere è chiaro e De Andrè poi è talmente immenso che ha superato ogni possibilità di essere isolato perché potrebbe essere dimenticato guarda cosa è accaduto a Gian Maria Volontè l'attore più grande abbiamo dei giganti no? inutile tra qua Gasman, Sordi uno dei più grandi abbastanza accantonato anche per il suo essere contro il potere e Bertoli è un po' dimenticato cioè Bertoli è un grandissimo cantautore ha studiato delle canzoni incredibili beh è un po' nel dimenticatoico perché? perché ha sempre criticato la prima canzone ma eppure soffia ancora anche la prima canzone ecologista nella storia della musica italiana la scritta Pierangelo Bertoli che parla dell'inquinamento e del rischio nucleare della guberno che ha avuto veramente una visione quando altri cantavano cose nobilissime ma lui ha avuto una cosa politica pazzesca sì interessante anche che tu abbia citato due cover però no? quindi Sanremo ma due cover cioè sarebbe interessante andare a vedere se la potenza di questi testi si ritrova oggi ma sicuramente sì sicuramente sì sono convinto che c'è probabilmente siamo noi che non ascoltiamo a volte quando parlo di questo sono convinto che ci sia Bruno Rissalzo è uno bravo abbiamo avuto Daniele Silvetto ci sono cantanti che proseguono dunque fare quelli che dicono con De Andrè è finito no no mai farlo mai farlo senti volevo dire allora visto che come dire tu hai citato dei filosofi e delle filosofi come Ipazia volevo come dire raccontare al nostro pubblico che questo libro si forma e si costruisce esattamente in questo modo cioè Matteo Saudino ha scelto dieci anzi otto filosofi e due filosofi per essere preciso forse perché purtroppo non c'era molto spazio per il filosofeggiare delle donne cioè non c'è stato molto spazio nella storia per il filosofeggiare molto poche sicuramente molto poche sino a fine ottocento pochissime e e volevo dirvi chi sono due di questi nomi li farò dire a Matteo perché io non credo di essere in grado di pronunciarli allora c'è Anassimandro c'è Protagora c'è Epicuro c'è Ipazia c'è Etienne De La Boissy De La Boissy perfetto io avrei detto De La Boiti ma ovviamente io la prima volta Etienne De La Boatie la pronuncio De La Boatie esatto poi mi hanno degli amici appunto francofoni che hanno studiato Montegna Etienne De La Boissy c'è Pascal c'è Spinoza c'è Olympe Olympe De Gauche De Gauche ok c'è Immanuel Kant e c'è Karl Marx ora io giuro che i due difficili che non so dire sono quelli che io non conoscevo vedi cioè io Etienne De La Boissy e Olympe De Gauche non l'avevo mai mai sentito in vita mia proprio hai voglia di raccontarci un attimo di dirci chi sono con gran piacere tra l'altro è anche un po' l'obiettivo sempre che mi sono dato di presentare all'interno di autori più conosciuti e gli autori più conosciuti sono quelli che piacciono perché quando tu parli di Nietzsche e Schopenhauer le persone non vedono l'ora di sentire perché piacciono ancora tantissimo i libri su Schopenhauer in Francia in Germania vendono tantissimo ancora adesso cioè vengono proprio comprati perché sono degli autori che alla fine sanno ancora oggi parlarci ma all'interno cerco di presentare dei autori meno conosciuti parto dal primo che è Etienne de la Boissy che negli ultimi anni è stato riscoperto anche nell'università dunque molti studi è stato un filosofo che è un filosofo poeta che è morto giovanissimo un po' più di trentenne ha avuto una vita molto molto attiva ha cercato di mediare presso la corona francese nelle guerre di religione tra Ugonotti e cattolici scrive tantissime poesie ma poi a 19 anni scrive un saggio che si intitola appunto discorso sulla servitù si è parlato del 1500 sì 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 siamo nel 1500 1520 28 30 siamo questi anni qua e questo saggio è un saggio esplosivo perché la tesi di Etienne de la Boissy è che gli esseri umani che all'epoca venivano presentati come proiettati verso la libertà il desiderio dell'uomo essere libero la libertà anche secondo Machiavelli ma secondo Guicciardini però non parli di quelli che verranno dopo Rousseau invece Etienne de la Boissy dice no c'è nell'essere umano una propensione all'obbedienza alla servitù tu togli agli uomini l'andare verso le catene e gli uomini si riscopreranno liberi cioè noi abbiamo tutta una serie di elementi per i quali tendenzialmente obbediamo gli dice l'abitudine siamo abituati sin da piccoli ad obbedire sempre che sia ripensare l'epoca che sia il re che sia il vescovo che sia il precettore il papà tutte figure che non vengono messe in discussione si è abituato ad obbedire e poi c'è ovviamente non soltanto l'abitudine se non le racconto tutto ma ad esempio c'è il fatto che chi obbedisce riceve dei piccoli premi dal potere il potere premia l'obbediente se ci pensate queste riflessioni perché tende la vostra oggi è tornato anche di moda per la sua freschezza provate ad immaginare in certe aziende i capi non è che si circondano dei migliori ma di quelli che gli dicono sì così un capo quando si muove nel suo ufficio si sente osannato amato non prendere perché il migliore potrebbe criticarlo in un'ottica chiaramente di corona potrebbe rovesciare il trono è chiaro cioè il fatto che ti circondi yes man a cui dai dei premi questo questo va già indotto Platone nel celebrare un mito della caverna che fatti racconto dentro le tiende perché gli uomini incatenati che guardano le ombre sono premiati per la loro obbedienza e quando il filosofo torna nella caverna per liberarli questi non credono al racconto del filosofo che gli dice che fuori c'è un mondo c'è il sole c'è la luna le stelle i fiumi ma gli dicono guarda che la verità è questa no credetemi venite tu ci vuoi ingannare perché gli ingannatori allenano e premiano gli ingannati a far sì che essi credano che quella finizione sia la realtà e questo è un meccanismo che tiene la Boasì a capire cioè siamo educati a servire 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 le donne il marito il fedele e se noi rompiamo questa catena di servitù ci troviamo di colpo ad essere liberi c'è un problema la libertà comporta responsabilità e allora la paura di essere responsabili fa sì che molti uomini e molte donne scelgano essere incatenati e tra l'altro poi non voglio raccontare troppo perché manca poi il piacere di leggere c'è l'amicizia con Montaigne che è estruggente Montaigne veramente cerca di andare fino all'ultimo al letto di morte a tenergli compagnia e affide tutti i suoi scritti a Montaigne e tiene la borsì e Montaigne che ne pubblicherà molti rispetto al discorso sulla servitù tentenna perché è un testo veramente esplosivo l'altra filosofa in realtà è una drammaturga siamo nella Francia dei Lumi nella Francia della Russia francese siamo due secoli dopo siamo due secoli dopo se mettra nel pantheon è una delle candidate nel pantheon francese ma non è ancora avvenuto questo passaggio è di Olympe de Gauche Olympe de Gauche ha già una storia pazzesca è figlia ufficialmente di un macellaio e di sua madre Marie de Gauche però in realtà il vero padre e l'amante di Marie de Gauche che era un aristocratico di bell'aspetto un poeta che non aveva bisogno come l'altro uomo di fare il macellaio per lavorare perché non era molto ricco ma aveva di quella piccola eredità che aveva e com'è che Marie sta col macellaio no c'è interessante scusami non c'entra niente mi è scattato il gossip ti racconto il matrimonio poi il suo papà muore muore giovane il papà non ufficiale e la mamma non vuole però per le voci del paese tutto che il vero padre la prenda e dunque viene respinto questo uomo e a quando a 16 anni fa che darla 17 darla esposa a un funzionario nel 700 il funzionario è un mestiere ben retribuito nella Francia del 700 che è la nazione che ha la migliore amministrazione pubblica dell'Europa un funzionario lei non vuole non lo ama è un matrimonio per avere un reddito per essere mantenuta avrà proprio dei figli ma dura solo due anni perché muore il funzionario francese allora lei si sente libera ha delle storie d'amore che non diventano mai un matrimonio e a un certo punto fa una cosa ed ecco il mio invito anche alle ragazze parte e va a Parigi non è una donna di grande cultura da autodidatta si forma entra nei circoli anche letterari entra nei circoli abolizionisti perché diventa un antischiavista perché se la Francia dei Lumi si discute queste cose comincia a scrivere scriverà dei drammi d'opera teatrali e comincia anche il pazzesco come figura a lottare anche per i teatranti che venivano malpagati dunque comincia a mettere insieme la lotta contro la schiavitura la lotta poi dice ma c'è una lotta più importante le donne scoppia la rivoluzione e lei prende la celebre dichiarazione dell'uomo e del cittadino dell'89 la prende senza cambiare nulla dove c'è scritto uomo donna donna ci siamo anche noi ma come cari rivoluzionari la dichiarazione dei diritti del cittadino e dell'uomo e delle donne ci siamo anche noi gli stessi rivoluzionari francesi non accettano questo non basta spiegare perché lei è ghigliottinata perché lei fa una cosa che per gli stessi francesi è effettivamente inaccettabile porta il documento Maria Antonietta cerca quasi di avere l'appoggio da Maria Antonietta Robespierre non gliela fa chiaramente passar liscia e poco dopo aver ghigliottinato Maria Antonietta verrà ghigliottinata anche storia bellissima storia bellissima ed è la seconda donna ghigliottinata in Francia per motivi politici perché le donne non venivano ghigliottinate andavano in carcere potrebbero essere impiccate ed erano tendenzialmente ladre cioè donne cui il marito era morto non so la guerra della successione polacca spagnola dunque senza marito tanti figli rubavi finiva in carcere lei viene ghigliottinata per no per inimicizia nei confronti delle voce dunque un reato politico e dunque la sua testa che rotola nella cesta care donne ma in effetti è un omicidio del patriarcato comunque cioè voglio dire è certo è certo nel libro tu racconti che lei anticipa di due secoli tre secoli il concetto di intersezionalità e lì l'ha trovata geniale poi le altre femministe lo recuperano perché lei era abolizionista dunque contro la schiavitù e i giacobini erano contro la schiavitù questa è una cosa pazzesca perché la rivolta di Haiti i primi schiavi che rompono le catene nasce un governo di uomini di colore di negri all'epoca dunque lei è contro la schiavitù né al contempo è lì che lotta con i teatranti per la dignità dei lavoratori del teatro e poi con le donne cioè mette insieme ecco intersezionalità lavoro genere e ovviamente schiavitù un po' di teatranti di passare decine Grazie.